Siamo stati onorati di aver avuto al tavolo dei redatori in iniziative culturali promosse dal nostro istituto. Le sue ricerche sono state sempre valorizzate nelle nostre esposizioni bibliografiche. Nei suoi scritti, oltre 50 lavori di approccio multidisciplinare, che per la maggior parte sono esposti in corridoio, la passione e la dedizione per la sua Messina, città che gli deve tanto. Tra l'altro è stato presidente dell'Associazione Amici del Museo di Messina, che adesso è titolato al professore Ricco Fona, consulente dell'Istituto Italiano dei Castelli, Sicilia, vicepresidente Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia e componente del Consiglio regionale dei beni culturali. Qui un applauso veramente.